Il presidente del Consiglio Comunale di Agropoli, Massimo Laporta, in merito alle costanti manifestazioni e vicende che vedono al centro del dibattito l'ospedale di Agropoli, ha dichiarato che il Piano Sanitario Regionale 2018, redatto dal governatore Vincenzo De Luca, all'epoca commissario della Sanità Campana, ha ridato dignità al Presidio ospedaliero agropolese. Secondo Massimo Laporta, le motivazioni della mancata attuazione dei servizi sono da ascrivere alle responsabilità del direttore generale Mario Iervolino e del direttore sanitario del Presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, Adriano De Vita. Il decreto ministeriale che fissa gli standard, la programmazione che è stata approvata dal Ministero della Salute, che grazie all'approvazione la Regione Campania è fuoriuscita dal commissariamento. Noi scherziamo, se oggi parliamo di milioni di euro, dei due famosi miliardi di euro che oggi l'ASL riesce a gestire e grazie anche a tutto quel lavoro che è stato fatto nel Piano Sanitario Regionale sulla programmazione ospedaliere che ci ha portato ad uscire dal commissariamento. Allora vogliamo essere costruttivi. Il problema l'avete centrato. Il perché non si attua quello che è previsto nel Piano Sanitario ce lo deve spiegare Mario Iervolino e il direttore sanitario dei Presidi a Agropoli-Vallo, dove, caro Giovanni, Agropoli e Vallo sono insieme, sono associati, grazie al Piano approvato. Noi da questa discussione dobbiamo andare avanti. Non torniamo indietro. Noi dobbiamo risolvere il problema con il direttore sanitario ci deve dire perché alcune attività specialistiche non vengono dislocate nel Presidio di Agropoli aggregato a Vallo. Questa è la discussione che noi tutti dobbiamo fare, Emilio. Perché fare polemiche, la gente stanga. Noi siamo cittadini alla pari di tutti coloro che hanno, speriamo mai, ma l'esigenza della struttura sanitaria, allora farci una continua discussione il perché, il come, allora chiunque abbia contezza e può mettere sul tavolo una soluzione alla problematica, mettiamola sul tavolo, non ritorniamo al passato. Intanto sono stati stanziati due milioni di euro per rimodernare il reparto malattie infettive del San Luca di Vallo della Lucania. L'ottavo piano dell'ospedale San Luca ci saranno lavori per un milione e novecentomila euro per rimodernare il reparto infettivo. Questa è una delle notizie che porterò al mio sindaco Coppola, che dovrà precipitarsi a Salerno da Iervolino e contestare questa scelta del direttore sanitario del Presidio Vallo della Lucania, Agropoli. Perché io torno a ripetere, ci hanno aggregato a Vallo che ondea e i servizi specialistici devono arrivare anche ad Agropoli.